signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale questa settimana andiamo a finire quella che è la trilogia del preparare una sessione primi due video sono usciti a novembre dell'anno scorso in realtà questo avrebbe dovuto uscire prima ma poi ho avuto dei problemi personali in più volevo prima fare il video quello sull'illusionismo perché ci servirà per qualcosa che vedremo poi nelle prossime settimane quindi questo video è stato shiftato a ora mi dispiace ma non ho potuto fare diversamente non perdiamo altro tempo questa settimana andiamo a vedere cosa io personalmente ho preparato per le quest che sto masterando in questo momento in questo periodo io sto lavorando su due quest una di impostazione molto più classica e una che richiede qualche elemento più di una normale quest le due quest sono abbastanza diverse tra i loro quindi secondo me possono essere un buon esempio di come un master può gestire in maniera diversa quest diverse in base a necessità diverse e sono anche un buon esempio di quanto è profondo il mio disturbo ossessivo compulsivo per quanto riguarda il masteraggio come ho già detto in altri video il mio metodo di lavoro per quanto riguarda le quest è quello di preparare tutto il materiale possibile in anticipo in modo da essere concentrato esclusivamente sui giocatori durante la quest quindi posso farvi vedere molta roba ma ovviamente nessuna delle due quest è ancora terminata quindi non posso farvi vedere tutto quello che ci sarà però sono sicuro che di roba interessante a farvi vedere ne ho abbastanza quindi andiamo a vedere cominciamo dalla più classica delle due benvenuti nel magico mondo di satikara che per ora esiste esclusivamente come documento condiviso su google drive questa è una quest che ha un impostazione del tutto tradizionale come vi dicevo la stiamo sviluppando in due insieme a don vecchi siamo partiti da alcune idee che lui aveva avuto per una sua ambientazione personale che poi per vari motivi non era riuscito a portare avanti e ci siamo messi in due abbiamo preso tutte le informazioni abbiamo scartato quello che non ci piaceva e abbiamo fatto un unico file in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni che volevamo tenere tutti i concetti che sono poi alla base del world building sono no in realtà sono più di 30 sono 37 pagine totali da queste 37 pagine abbiamo poi preso pezzo per pezzo e abbiamo cominciato a sviluppare il world building vero e proprio adesso a livello di mondo grosso modo abbiamo tutto abbiamo rifatto le razze abbiamo creato le religioni e abbiamo cominciato a stilare una vera e propria guida geografica anche se ovviamente la maggior parte di questo lavoro non è finito abbiamo anche poi sviluppato una vera e propria mappa del mondo questa è un'altra cosa classica che trovate in tantissime questo made ovviamente questa non è la prima versione la prima versione quest'altra che come potete vedere è molto diversa dal risultato finale una volta che avevamo tutte le informazioni che ci servivano come base per cominciare a scrivere effettivamente le storie all'interno del mondo di sati cara abbiamo cominciato a scrivere effettivamente le quest adesso stiamo scrivendo proprio in questo periodo la prima delle quest che saranno ambientate a sati cara anche in questo caso abbiamo fatto una mappa della zona in cui la quest andrà a svolgersi qua vedete tutte le varie città le varie strade i percorsi che i giocatori dovranno fare questo poi diventerà un handout che viene consegnato ai giocatori per permettergli di farsi un'idea di che tipo di ambiente è quello in cui si muovono i loro personaggi ovviamente oltre alla mappa c'è la quest vera e propria che divisa in capitoli abbiamo creato un file con un proprio partendo da un sommario per essere di veloce consultazione questo è poi quello che il master avrà davanti mentre sta masterando la campagna vera e propria ognuna delle città una lista di luoghi di interesse che i personaggi potrebbero voler visitare una piccola sinossi per ricordarsi cos'è quella città perché i personaggi dovrebbero andarci e poi ovviamente il vero e proprio railroad della quest con tutti gli incontri che i personaggi dovranno fare diviso in capitoli per essere più facile per il master ogni capitolo all'inizio ha un antefatto in cui viene spiegata la situazione in cui i giocatori andranno a trovarsi e poi pezzo per pezzo come vedete ci sono ancora delle cose a finire di discutere essendo una cartella condivisa su google drive rimane abbastanza facile lavorarci anche in due perché ognuno di noi quando ha tempo va a scriverci qualcosa e legge quello che ha scritto l'altro e mal che vada se qualcosa non torna si segnano delle note in modo da essere tutti allo stesso punto questa sarà la prima quest che i giocatori andranno ad affrontare dovrebbe arrivare fin verso al settimo tavo livello fondamentalmente se avete mai letto un modulo d'avventura una p comunque avventure già scritte segue esattamente lo stesso principio ci sono la storia e tutti gli incontri che vanno a formare la storia e ovviamente per gli incontri che vanno a formare la storia li abbiamo poi raccolti tutti in un unico file che è proprio il bestiario di satikara in cui sono elencati tutti i mostri tutti gli incontri che i giocatori dovranno fare questo serve sia per avere i riferimenti per il master quando gli incontri effettivamente avvengono in campagna sia per aiutare il master quando deve effettivamente andare a improvvisare abbiamo riportato anche degli incontri che non sono potenzialmente previsti alla quest per esempio il nano soldato in realtà nessun incontro all'interno del railroad prevede che incontrino dei soldati nani però la quest prevede che girino per una città nana in realtà per varie città controllate dai nani quindi è possibile che per un motivo per l'altro i giocatori entrino in contrasto con i nani nella città o semplicemente debbano chiamare la polizia per qualche motivo questo è un profilo generico di un nano guerriero che può tornare utile sia come avversario sia come alleato ce ne sono ce ne sono vari per esempio a visiteranno delle città controllate dagli orchi c'è quello che fondamentalmente è un poliziotto degli orchi ci sono vari animali che sono possibili incontrare nella zona della campagna questi incontri non sono stati fissati all'interno del railroad ma possono essere utilizzati al master ogni volta che i giocatori hanno delle iniziative personale magari vanno a esplorare la savana intorno alle città e il master gli fa incontrare un grifone che è un animale tipico di quella zona non abbiamo ancora finito di scriverli ma considerate che sono 34 pagine solo di mostri previsti per l'arco sono loro dovevano finire al settimo e iniziano al terzo quindi per questi quattro livelli più probabilmente cinque perché in fase di lavorazione abbiamo deciso di allungare un po' le cose per introdurre degli altri argomenti che ci servono poi per il world building delle avventure successive comunque diciamo in questi quattro cinque livelli è possibile che incontrino adesso non sono 34 mostri sono in realtà 36 o 37 comunque abbiamo abbastanza roba per poter coprire ogni singolo incontro che dovranno fare avanzando nei livelli questo è proprio un metodo classico da utilizzare quando si fa una campagna convenzionale mettiamola così cioè un railroad preparato al master con i personaggi che oscillano intorno a quel railroad all'interno di un ambiente che piano piano dovranno esplorare ovviamente il vero e proprio nocciolo della campagna non è tanto il railroad quanto i png se i png non sono interessanti non sarà interessante neanche la campagna e quindi abbiamo creato una lista di png divisi in base alle zone in cui i personaggi potranno incontrarli ognuno con un nome una breve sinossi in modo che il master possa velocemente ritrovare i nomi dei personaggi che ha introdotto questo potenzialmente potrebbe essere anche stampato e consegnato fisicamente ai giocatori questo probabilmente è il tipo più semplice di campagna che si può andare a creare cioè una serie di incontri prefissati con le relative statistiche dei mostri una mappa e una serie di png abbastanza pittoreschi per rendere le cose più interessanti per i giocatori tutta la parte di war building che in realtà è il grosso non è indispensabile aiuta molto per sapere cosa fare all'interno della quest ma in realtà dato che per esempio nella quest che vi ho fatto vedere l'area geografica in cui si svolge è limitata non vi serve avere l'intera mappa del mondo soltanto per una quest che in realtà si svolge in una zona limitata all'interno di uno dei continenti vi basta la mappa della zona ovviamente preparare tutto il mondo prima vi torna poi utile per preparare le quest dopo e torna anche utile per i personaggi nel caso non vogliano provenire da quella zona lì però è tutto lavoro in più mettiamola così se satikara esiste esclusivamente in forma scritta con l'altra quest facciamo un salto in avanti per quanto riguarda il materiale che il master ha preparato per fornire direttamente ai giocatori questa è la quest che sto attualmente giocando col mio gruppo ed è un sandbox basato sull'ambientazione di fallout un sandbox ovviamente ha bisogno anche di una mappa e questa credo avervela fatta vedere già in altri video ci ho fatto anche una serie del modellismo a riguardo quindi non credo debba essere ulteriormente spiegata questa è la mappa di gioco su cui i miei giocatori si spostano durante la quest ogni zona diversa è indicata da un colore diverso e la mappa è tridimensionale per avere un'idea chiara delle altezze questa non è neanche una mappa fatta a caso questo è il canavese che la regione e la zona nord del piemonte è il posto dove io e i miei giocatori viviamo quindi la quest ambientata effettivamente nella zona dove noi risiediamo anche questi credo avervi fatti vedere in altri video quindi tagliamo corto anche su questo c'è un video della serie del modellismo se volete sapere come sono fatti diciamo che in questa quest uso questi piccoli quadrati per comporre le mappe del dungeon al volo in questo modo non ho bisogno di preparare prima mappe o cose del genere mi basta comporre la griglia di battaglia come ha senso man mano che i giocatori procedono la quest di per sé non ha un regolamento proprietario esistono dei regolamenti per giocare dentro fallout ma quando ho cominciato a lavorarci l'ultimo non era ancora uscito e gli altri francamente non mi piacevano quindi fondamentalmente ho scritto io un hack eccolo qua il regolamento qui dentro ce ne sono due copie se non sbaglio sì una per il master e una per i giocatori queste sono tutte le varianti alle regole che ho fatto il regolamento di base quello di pathfinder ovviamente pesantemente modificato come potete vedere sono una dozzina di pagine in cui vengono riportate tutte le varianti alle regole che stiamo applicando in realtà molte cose funzionano a senso e oramai dopo diversi mesi che ci giochiamo i giocatori non hanno più bisogno di consultarlo mettiamola così però è sempre comodo averlo nel caso abbiate introdotto dell'house rules o cose del genere avere un foglio in cui andare a confermare le regole quando non possono essere confermate dal manuale ufficiale del gioco ovviamente una campagna non varrebbe nulla se non ci fossero degli avversari degni e questo bellissimo tomo di 200 pagine è il mostrario con tutti i mostri divisi per categoria qua ho anche segnato fondamentalmente tutta una serie di incontri possibili già fatti in modo da non dover stare a lavorarci sessione per sessione fondamentalmente dal livello 1 al livello 10 tutto quello che potrebbero più o meno incontrare è già stato fatto anche perché ovviamente ho dovuto adattare tutti i mostri di pathfinder per poter essere utilizzati all'interno di fallout quindi ho dovuto scriverne di nuovi e adattare e cambiare quelli di pathfinder per fare in modo che si adattassero alla nuova ambientazione anche perché alcune delle regole che ho introdotto vanno a cambiare il combattimento quindi anche i mostri presi dal manuale hanno dovuto essere cambiati per riflettere le nuove regole di combattimento che sono state introdotte per fare tutto questo considerando che l'ho fatto nel d20 system che è un gioco anche relativamente facile da modificare ci ho messo più di sei mesi a scrivere tutti gli incontri possibili però è un lavoro che non dovrò mai più rifare all'interno della campagna immagino però che vi starete chiedendo ma il d20 system è lungo e macchinoso da preparare come fai a gestirci un sandbox in cui gli incontri devono essere creati sul momento non è troppo lungo e complesso da fare sì in effetti lo sarebbe se il master dovesse gestire gli incontri in tempo reale sarebbe effettivamente troppo lungo c'è però un trucco basta non farlo fare al master perché la vera chicca della campagna è l'interfaccia di gioco virtuale di questo non mi prendo meriti è stato creata dal vecchio lu che è uno dei miei giocatori l'avete visto anche in qualche video che per quello che mi riguarda un genio e quindi in grado di creare queste cose è fondamentalmente questo è un programma che va a risolvere tutti i problemi che il master ha nel gestire un'avventura sandbox all'interno di un sistema d20 questa è la mappa di gioco quella che avete visto in versione cartacea solo che questa ha un sistema per tracciare le coordinate e ogni casella in realtà va a prendere all'interno del database del programma quali sono le varie caratteristiche del terreno in base a dove i giocatori vanno a finire con i loro viaggi di conseguenza come potete vedere se io indico una casella lui mi dice già qual è il tipo di terreno qual è il suo sottotipo se ci sono delle cose importanti da sapere su questo terreno ha poi una sua interfaccia in cui sono elencati tutti i mostri per cui si può andare a prendere direttamente un mostro dal manualone che avete visto e anche l'elenco di tutti gli oggetti che i giocatori possono trovare all'interno delle loro avventure in questo modo a me come master basta semplicemente schiacciare su una casella e poi c'ho tutto quello che mi serve per creare gli incontri al volo come saranno composti gli incontri e come saranno equipaggiati i png o i mostri che formano gli incontri è qualcosa che il programma va già a calcolare da solo e quindi tutto il tempo che io come master dovrei perdere per preparare l'incontro lo fa automaticamente il programma salvandomi il lavoro e quindi posso gestirli anche in tempo reale ovviamente questi incontri sono relativamente scialpi il programma genera sempre a trovi tre briganti con il fucile trovi due briganti più un cane o cose del genere però questo serve a gestire esclusivamente la parte di sandbox quando i personaggi sono impiegati in una quest quali siano i mostri lo decido io precedentemente e quindi posso andare a decidere io se utilizzare l'incontro generato automaticamente o generare il mio nel caso ci sia effettivamente qualcosa di pronto in più questo programma anche il vantaggio di permettermi di gestire sia la mappa geografica ma posso anche avere contemporaneamente la mappa politica della zona qua sono indicati anche i rilievi ma ognuna di queste caselline colorate rappresenta un accampamento delle varie fazioni per cui ai giocatori è fornita solo la mappa geografica ma io come master posso anche sapere quando si avvicinano al territorio una determinata fazione per inserire degli incontri legati specificatamente a quella fazione vi avevo detto e di roba ce n'era tanta però spero che queste siano utili come esempio anche perché faccio già che annunciarlo qua a fine video per quelli che sono rimasti fino a qua e si sono sorbiti tutto il chiacchierone dalla prossima settimana che avevo già annunciato all'inizio in realtà all'inizio della stagione ancora l'anno scorso che avrei voluto fare una rubrica che parla del masteraggio proprio nella pratica e inizieremo la settimana prossima e vi avviso che la rubrica sullo scrivere una quest voglio che sia qualcosa di totalmente interattivo quello che ho fatto io ve l'ho fatto vedere adesso vediamo quello che si può tirare fuori assieme ma ne parleremo poi la settimana prossima diciamo che per questo video è tutto se il video vi è piaciuto come sempre mettete un like e condividetelo che è dovuta crescere il canale schiacciate la campanella e iscrivetevi se volete ricevere le notifiche io sono il master CAE noi ci vediamo nel prossimo video